Lazio 1-Udinese 3, clamoroso all'Olimpico, la Lazio che butta via l'occasione di agganciare la Juventus cioè ragazzi ma questo campionato è stranissimo, i gol di Pussetto, De Paul e di Arslan 3-0 secco addirittura a un certo punto di nese, 3-0 secco per esempio il solito immobile deve segnare, quello si però comunque veramente, cioè io non ho parole Udinese 3-1 all'Olimpico, ha la partita mostruosa Udinese che ha dominato tutta la partita tutta, tutta, ha dominato tutta la partita noi non diciamo di no, perché Musson ha fatto una parata su immobile nel secondo tempo questo risultato è clamoroso, è clamoroso ma poi che gol belli cioè dell'Udinese, veramente tanta roba quello di Arslan, quell'altro di, ah già segnavo anche Forestieri, non Pussetto fatto Pussetto e Forestieri il terzo, veramente clamoroso, clamoroso all'Olimpico 3-1 Udinese, l'Udinese che vola a 7, a meno uno da noi e dopo siamo contro il Milan, ho paura di perdere ma io non riesco a crederci, l'Udinese sbanca l'Olimpico e sale a 7 punti in classifica ora non so ma stava finendo la partita, siamo al 90esimo, non penso che la Lazio ora riesca a fare la rimonta ma non credo proprio comunque, veramente, ma veramente grande prova della squadra di Gotti che oggi non c'era nemmeno un panchina perché l'Udinese ha tanti positivi fra cui forse anche Weian, Nestorowski anche De Maillon non c'era convocato caca, quindi vedremo un po' ora, intanto fatemi un attimo vedere se la partita è finita perché se pareggia la Lazio Rido, ma non penso proprio comunque bisogna dire che questa Lazio crolla mentalmente ma in una partita così che sembrava anche semplice perché l'Udinese non è fortissima come squadra però è rognosa, rompe le palle a tutti quelle che trova vediamo un po', siamo ancora al 92esimo ma vediamo quanti minuti hanno dato perché 4 minuti di recupero ma 92esimo, 2 minuti, la Lazio ormai ha perso noi ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti Grazie